Volo, vieni, reggi, no no, come reggi? Io metrivo reggi, tranquilla, lascia, 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 stai serena Ciao ragazzi, daremo il Silvio in volo, finalmente abbiamo realizzato questo sogno Scusate la partenza, siamo partiti un pochino in termica, adesso siamo molto alti, quasi a base cumulo Circa 1200 euro, ora qui sul decollo di Norma, com'è volare? Senti, bellissimo, bellissimo, lei ha un po' di ansia, però lei adesso è tranquillizzata Perché qui adesso, lascio le mani anch'io così si tranquillizza, perché tanto siamo in aria calma Siamo in aria calma perché prima eravamo in termica, adesso potremmo rientrare in termica Ma che vuol dire che si rientra in termica? Ci sono delle bolle, diciamo, come delle bolle di sabone, quando senti quella turbolenza che sale E' una bolla di sabone che tende ad andare sulla base dei cumuli, lì, vedi, quelle sono tutte termiche E noi le sfruttiamo per fare i chilometri, ok? Sì, chiaro Scusami se, parlo vicino, io sono un po' sordo Chiaro Sono sordo? No, le gambe! No, adesso le puoi fare quello che vuoi Ah, ora sì? Com'è volare? Una figata ragazzi, cioè stavo per non farlo, ti rendi conto? Eh, lo so, ieri abbiamo preso l'acqua, lei è stata molto carina, sono venute No, stesso è stato carino, mi ci hai portato, mi hai fatto vedere Ragazzi, ma qui siamo veramente arti Eh sì, ma oggi, guarda, c'è un po' di poscia, però vedi qui No, il mare non si vede No, però è quella striscia lì dove finisce la terra, davanti c'è tutto il mare, ok? Però è tutta, questa è tutta la pianura pontina che scalda E nello scaldare crea queste correnti ascensionali che noi stiamo Correnti con una R Correnti, correnti ragazzi Correnti C'è anche il correttore qui della Toscania, eh? O no? No, no, a me piace il romano, eh Mi piace il romano? Correnti Ma io non ho capito perché tu abitavi a Roma per motivi di studio? Lavoro Lavoro e studio facevo Non ho capito che lavoro faceva la ragazza L'avvocato che faccio tutt'oggi, eh L'avvocato? Perché non me l'hai detto subito? Perché se no che cambiava? Mamma mia, adesso sto sparito, l'avvocato, adesso faremo dei wing cover ragazzi, guardate qui la faccia L'avvocato, con quelle gambe, con quelle gambe ragazzi Ma sei fazzata? Ma sei fazzata? No, lui mi volevi ammazzare No, no Sì, sì Assolutamente no Perché ho detto che fa l'avvocato Adesso ce ne andiamo, in quel della montagna, sei pronta? Oh, oh! Ma chi era? Corri ragazza, laggiù Nanana Non mi vuoi scaricare Perché questa dolce fanciulla così carina, ragazzi, non ha il ragazzo? Eh, chiedi Domandatemelo Chiedi che poi si fa un sondaggio Domandatemelo Domandatemelo Ma perché c'è la risposta? Ah, non lo so, c'è una risposta? Eh no, non lo so, si chiede a te, loro sono, guarda che loro se mi accasano sono felice Io la butto lì, eh, ce ne ha tanti Io l'ho buttata lì così, adesso mi picchierà, ma non lo so, eh Com'è la storia? Che storia? Ce ne hai tanti sì o no? Beh, un po' No, vedi, un po' Ecco, adesso è lucida, non è sui vapori dell'alcol Ieri sera faceva la simpatica Oggi no Oggi no, oggi mi sei rigidita la ragazza No, vabbè, dai, un po' è il giusto Mi diverto, no? Brava, brava Eh Come si dice, come si dice da noi là, non si serba Non si serba? Non si serba Ah, non si serba Ecco Comunque, c'ho dei momenti in cui c'ho lo stomaco e mi... Guarda, adesso stiamo facendo una planata per scendicchiare, va bene? Anche perché le manovre, diciamo, di discesa, quelle che abbiamo fatto sono, diciamo, frullanti Hai mangiato qualcosa? Tre ore fa Di che colore? Bianco Ok, vedi questo buco, vedi questo buco, la mia mano? Ok, allora, devi vomitare qui, eh Quando vomiti me lo dici, così giro a sinistra e tu vomiti a destra, eh No, scherziamo ragazzi, tranquilli Stop, sto già preoccupando E' tutto divertente, adesso piano piano scendiamo, facciamo la bola dei venti qui che c'è un anfiteatro, siamo ancora molto alti, siamo spostati parecchio dal decollo Che cos'è la bola che hai detto? Una bola dei venti, vedi ci sono quelle piccole farese che sono molto alte, non sembra, ma sono alte e di solito tirano molta termica quelle, tant'è vero che come finiamo dentro questo anfiteatro, adesso potrai che si balla un po' il tatatà No, 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 oh, 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 ma sento la seggiolina che si muove, eh Sì, so tesoro, so io che ti dico male Senti la seggiolina che si muove, la seggiolina La selletta La selletta Guarda, siamo più alti di quel gruppo di celli, vedi? Altro che più alti, siamo molto più alti Stiamo scendendo, vedi che il bariometro è un po' più strato Ed è per quello che sento lo stomaco che viene su? Allora, lo stomaco che viene su lo senti perché hai avuto una serie di... Si sta panicando, si sta panicando, Nemo No, no, hai avuto una serie di accelerazioni, si chiamano accelerazioni G che compensano una gravità relativa, va bene? C'ho capito un cazzo, ma sì Questa compensazione ti fa sobbalzare lo stomaco quando non sei abituata Probabilmente la ragazza soffre anche il mal di mare, ma non lo sa O è stata in barca la ragazza? Sì, ma oddio, un po' sì, un po' di fastidio me lo dà Ma regalo, ma no, sì Però, non ho così, ma questo è legato, eh, meno male Sì, è legato, tranquilla, ma adesso la togliamo perché abbiamo fatto già i 6 minuti di classica Sì, infatti Di registrazione e soprattutto ti tolgo questo... Mi devo regge? Questo orpello, questo orpello dalle mani, insomma Vabbè, ma insomma, che mi devo mangiare quando vengo in Toscana? Allora Il lampredotto? Il lampredotto a me non piace, però tanti lo mangiano Io l'ho mangiato, non è la mangiata La lingua devi mangiare, l'hai mangiata della lingua? L'ho mangiata la lingua, l'hai mangiata un po', tipo un bollitone la lingua, no? Sì Voi la fate in un modo differente Loro la, la, cioè, la maggior parte la fa bollita Allora, ascoltami Eh Come stai? Sono La nausea di solito tende a aumentare Fatti Allora, facciamo un bel saluto a tutti i ragazzi e alle amiche che gli hanno regalato questa bella esperienza Ragazzi, venite a volare, non state Ah, è vero, dovete venire anche voi, corremo Stai, sedute Ora vi porto Le porto La tua categoria Le porto, tieni Le porto mai, non verranno No, non è vero Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao